Andremo a vedere la Winner Final tra Sir Sambo e Tishmoa. Ciao di nuovo Blaze, solo che hai un nome bianco su un fondo bianco, quindi non lo vedevo. Blaze, ciao! E mo, questa come la vedi? Che riper in chat! Corea riper! Ma sei un nabo, ragazzi! Il migliore e unico l'Arsena Sardegna! Il miglior Claudio in Italia! Città! Riper è bravo, viene spesso a giocare in streaming da me! No, Marco, io perdo la voce ogni... Vabbè, io vengo una volta all'anno e vinco il Tour Dei! Bode Zanella! Bode e Zanella insieme, come fa a essere qua se Bode sta giocando? Ci sono fusi! Bode Zanella! C'ho la Corea! E si parte! Questo è Top 4? No, Top 6! No, Top 8 generale! Cazzo, io l'F1 a Larsi l'avrei lasciato! Ma che cazzo! Poverino! Senza, non lo usa nessuno! Ma che cazzo! Grazie Agostino! Dimmelo! Cazzo! 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 Così non si caga sotto durante il match Cazzo! 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 Pazzo! Cazzo! Cosè tante? contro attenzione uno pari 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 come è l'immimma tipo per bode brava l'alanzante per voto è arrivato a casa prima partita 2 a 2 primo match combattutissimo o ammazzalo eh stava parando cosa è successo si porta avanti l'importante è partecipare senza ne vincere le stringhe lo splat mamma mia che combo uomo combo bellissima bellissima lo perry da parte di bote 1 a 0 per bote i step di bote eeeh la festa non si lascia andare più bello bello questi due entra in mezzo madonna per un pelo questa l'ammazza questa l'ammazza madonna mia madonna madonna neanche crossfire srl sono tiratissima però bote ha un bel vantaggio si studiano si studiano bote salta lì dietro poking dice 1 3 1 più 2 lo flotta potrebbe chiudere non sbagliare la combo muro mamma mia pote grossissimo il tuo migliore il tuo migliore c'è il cambio pg la tua migliore cosa è come è far si che dei bote cimovamenti se lo gifo non vole la vole lo lo ramazzano eeeh 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 attenzione un crossfire indeciso miguel attenzione shahin quello sta là perchè ci vuole far parlare ci vuole far parlare shahin va i bote tra lì in finale tutta la chat è per bote bravo chiamano bob 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 marduk 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 josi ci vuole far dire tutta la fatica attenzione è una roulette a caso casuale casuale lili lars è uscita lì alisa lo sta facendo per il pubic bob se non vincemo se non vincemo tre quattro in un certo amici è arrivato bob? si bob vediamo vediamo è un termo il tiro attenzione il ciccione bam ma giù due cross sarà o come back o sconfitto potter ha parlato che ha detto ha detto patibolo patibolo patibolo? ora è il campetto di bo bock 2 bock 2 mamma mia che float ha fatto qua bode mamma mia che perry ha fatto qua bode bode è fuori di testa oggi andava 0 mamma mia bode crossfire però eeeh ha riconosciuto la spazzetta in campo parato con la purga spazzata bravo che sia bassa meno bravo per non punire non mi è cazzo 4 vediamo vediamo è meno un po' madonna ed ecco il primo round madonna back swing blow dopo dopo ancora la spazzata in counter troppa la combo bode on crossfire boom trottola giù uno counter cross dash no con la taglia la combo basso attenzione cross il comeback is real comeback è chiamato c'è sta arrivando che sia l'inizio della rimonta anche se c'è con la fratellanza dei personaggi fa un grande tifo bella pulizione a vuoto da parte di bode bam 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 no troppo la gioco e vado vado il è al limite di questa ultima vita e vado con la crossfire il comeback con il ciccione con il ciccione hai visto i cattivutini che hanno detto che si parla del niente si ta 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 ma non si vide vediamo come Bode decide di adottarsi non ha cambiato il PG si sente confio ma sbaglio, no la presa è lì già si pesano più più schippata, bellissimo e aggiorna la pagina Ernie UF3 potrà fare di meglio, trottola UF2, UF3, tutta no, non si può si calca e invece Bode riesce a, spazzata, spazzata, ancora, mamma mia, spazzata, no, medio, troppo forte sta roba che raccoglie anche, no, quattro cambi di telecamera spazzata, stringa, bravo qui cross, prova a scappare cross, però scappa con la scivolata che debita da 40 milioni di press attenzione, set point per Bode, e salta via, trottola, però c'è un trottolo di cross, 14 volte trottola in ultimo minuto 1, 2, 4 no, mi resta a spazzare cross non ci sta ancora, cross ha tirato 2 armor di fila e Rage Drive lo steppa, non punisce Rage Drive steppato è Bode è Bode è Bode chiude